Fly Trendy è un social network che collega macchie con persone che utilizzano i social. Noi uniamo i talenti migliori come te con i migliori brand. Ti piace utilizzare i social? Quindi cosa ne pensi di guadagnare con i tuoi post? Come? È semplicissimo! Iscriviti adesso per essere ammesso. Ottieni accesso alle opportunità di campagne marketing. Produci i tuoi migliori post. Ricevi il tuo compenso. Fly Trendy. Scarica ora l'app.